Oggi è la memoria liturgica di Santa Giuseppina Bachita, madre canossiana, sorella universale. È la mia santa e ci sono particolarmente affezionata e quando arriva l'8 febbraio sono sempre tanto contenta, perché Santa Giuseppina Bachita ha fatto quello che ha fatto quella donna nel Vangelo di oggi. È riuscita ad accontentarsi delle briciole e il Signore da quelle briciole ha fatto miracoli anche nella sua vita. Le ha ridonato la libertà e l'ha fatta essere sorella di misericordia e di libertà, prigioniera liberata dall'amore di Dio. Che cosa ti incatena oggi? Quali sono le briciole che tu devi chiedere per essere salvato?